Tutti coloro che dimenticano il proprio passato sono condannati a riviverlo. Una frase di Primo Levi posta all'entrata di moltissimi campi di concentramento è citata dal sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani nel suo discorso rivolto ai ragazzi di terza media. Durante il giro per tutte le scuole cittadine è partito proprio stamattina dalla primaria Enrico Fermi e poi continuato alla secondaria Giovanni Battista Maino in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. Innanzitutto far capire ai ragazzi cosa è stata la storia, cosa è stata la prima guerra mondiale, cosa sono le forze armate e il ringraziamento che dobbiamo ogni giorno dedicare a questi ultimi. Il secondo messaggio che ho voluto dare è incuriosirli. Secondo me la curiosità è quella che può spingere i ragazzi ad uscire un attimo da quelli che sono la tecnologia, i cellulari e proprio quello di andare a leggere, di informarsi su tutte le cose, tutte le realtà che ci sono perché dietro alla storia contemporanea ci sono tante altre storie che è giusto che loro conoscano e vengono alla ribalta. L'incontro con i ragazzi è un momento importante per il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cassano Magnago II, Alessandro Bocci. Quando è nata l'autonomia scolastica uno dei pilastri dell'autonomia scolastica appunto era il fatto che le scuole, le istituzioni scolastiche dovessero essere aperte al confronto con le istituzioni del territorio nel quale esse si trovano, nel quale esse insistono. E certamente la venuta del sindaco di Cassano è un fatto estremamente importante. Alla fine dell'incontro anche qualche domanda estra da parte dei ragazzi, come la richiesta del campo da basket promesso in campagna elettorale e delle luci per il nuovo parco di città.